Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona, buonissima. Arrivo. Che tia dietro le quinte. Questa sta impazzendo. Mi chiede riprese strane. No, non fermatevi, non fermatevi. Ma ho un problema col focus. Ma è entrato o quel ciocco? Devi aspettare un attimo. Ma al di là del ciocco, è un problema col focus. No, mi fai ancora l'urletto? Ancora un'altra. No, no. Ah, ok. No, hai detto ciocco. No, io sono sotto a fondo. Devo fare un attimo solo il controcampo di lui tra di voi, ma proprio 30 secondi ci serve. Ma mi stai prendendo? No. Cioè, proprio mentre bestegno viene. No, no. No. Quello l'ho tagliato. A me sembra esattamente come l'altra volta, mi stiamo. Nel prossimo ce ne andiamo col cellulare e facciamo tutto. Provatevi in giro se basta. Ma vedi tu? Ma secondo me basta. Sei pronto? Sì, c'è. Unica location al chiuso, ventilato. No, dobbiamo mangiare le campanze. No, dobbiamo mangiare le campanze. Azione! Azione! Motore! E azione! Motore! Motore! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.